Noi che non siamo il mainstream siamo un altro stream diciamo così, quindi dedichiamo un po' d'attenzione a quello che succede nella battaglia dell'informazione sul campo diciamo così. Quindi la prima cosa che adesso voi avete qui di fronte a voi un giornalista che non fa parte del mainstream, un fotoreporter diciamo così, che è protagonista di un caso che lui stesso ha sollevato e che merita secondo me una riflessione. Giorgio ti conoscono in molti sulla rete ma siccome noi andiamo anche per fortuna fuori dalla rete, abbiamo un pubblico un pochino più esteso, allora magari se ti presenti e dici chi sei e cosa hai fatto esattamente, o meglio dimmi le cose che ritieni più importante della tua carriera di reporter. Io sono, prima di tutto, salve a tutti, io sono Giorgio Bianchi, sono un fotoreporter e documentarista romano. Si sente. Si sente dall'accento. Mi sono occupato essenzialmente della crisi in Ucraina, del conflitto tra Kiev e le repubbliche di Donetsk e Lugansk. Io ho seguito gli eventi di Maidan a cavallo tra il 2013 e il 2014, ero lì proprio nei giorni in cui si è verificato quello che io non ho paura di definire un colpo di Stato, magari dopo ne parliamo, e poi sono ritornato ogni anno per verificare l'evolversi della situazione. Mi sarebbe piaciuto poter documentare ambi i fronti, quindi dal lato dei separatisti e dal lato dei governativi. Purtroppo gli unici che mi hanno sempre accolto e mi hanno lasciato documentare sono il lato separatiste, mentre dall'altra parte non mi è stato più consentito di entrare. Addirittura nel 2015 arrivò una lettera della Farnesina in cui si diceva che i nostri servizi di intelligence erano entrati in possesso di una lista di nomi che era stata presa dall'SBU che sono i servizi di sicurezza ucraini e in questa lettera si sconsigliava vivamente alla mia persona di ritornare in Ucraina non perché ci fosse qualcosa di ufficiale nei miei confronti, ma perché risultavo persona non gradita, non ufficialmente ma in questa lista ufficiosa. Questo detto da un funzionario della Farnesina. Pertanto io da quel momento mi sono occupato soltanto dell'altro lato e sono tornato ripetutamente. Abbiamo finito adesso di completare un documentario ad alto budget, una produzione internazionale che spero al più presto veda la luce sui nostri schermi. Adesso sta facendo il giro dei festival. Poi mi sono occupato di Siria. Sono stato in Siria un mese a cavallo tra il 2016 e il 2017. Sono stato il primo occidentale ad entrare al Museo di Palmira liberato. Io sono stato proprio a cavallo nel periodo in cui l'esercito arabo-siriano aveva riconquistato dall'Isis il sito di Palmira, la città di Palmira e quindi il sito archeologico. Ho visitato il museo e ho potuto constatare la devastazione operata dalla soldataglia dell'Isis, le opere trafugate. Tra l'altro mi interessava la storia di Khaled al-Assad, il grande archeologo che ha pagato con la vita la salvaguardia del patrimonio culturale del proprio paese, perché quando tutti erano scappati lui si è attardato fino all'ultimo momento per mettere a riparo fino all'ultima opera possibile. È stato catturato dall'Isis, è stato torturato per più giorni per fare in modo che lui confessasse il luogo dove erano stati nascosti i reperti, quelli che non si erano riusciti a mandare a Damasco. Siccome lui non ha confessato, è stato decapitato e il suo corpo è stato appeso a un lampione. Quindi io mi sono trovato a Palmira a cavallo tra questo periodo e il periodo poi della successiva riconquista da parte dell'Isis, perché poi è stata riconquistata. Ero entrato in contatto col governatore militare di Palmira, mi ha fatto fare, una persona gentilissima, mi ha fatto fare un giro di tutto il sito archeologico. Ho potuto vedere il teatro romano, quello che poi successivamente è stato, diciamo, fatto esplodere dall'Isis. Ancora per terra sulla sabbia c'erano le chiazze di sangue dei soldati arabesiriani giustiziati e decapitati e su una delle colonne del proscenio c'era ancora il laccio sul quale erano state appese le teste dei soldati decapitati. Il governatore militare di Palmira mi ha fatto vedere le foto catturate, tra l'altro io ho anche fotografato i cellulari con queste foto, c'erano le immagini catturate dai miliziani in cui si vedono questi uomini che si mettevano in posa con le teste dei soldati siriani, mi ha parlato di armi NATO sequestrate e catturate ai... che da noi si chiamano ribelli. Cioè, poi questa qui vorrei fare un inciso, no? Da noi si è sempre parlato di ribelli moderati e Isis, no? Cioè, come quando tu compri la pasta, no? Cioè, la Barilla fa, per esempio, la versione normale e poi c'è la versione bio, no? La fabbrica è la stessa. Cioè, il brand è diverso, no? Cioè, come a noi dovevano vendere. Da una parte che c'erano i ribelli moderati, quindi ci hanno messo i ribelli e ci hanno messo i terroristi, io li chiamerei, c'era il timbro di ribelli moderati. Gli altri erano la soldataglia dell'Isis. Poi in realtà si è scoperto che molti dei filmati dell'Isis erano stati fatti da un filmmaker inglese che distanza in Iraq, pagati, mi sembra, con mezzo milione di sterline, o di dollari, adesso non ricordo bene, e fatti diffondere dicendo perché era una guerra psicologica per capire chi diffondeva questi filmati, che poi finivano automaticamente in mano a Rita Katz, che arrivava sempre prima dell'NSA, del Mossad, eccetera. Cioè, entrava prima in possesso lei di questi filmati piuttosto che gli altri. Quindi, parliamo di una situazione, tra l'altro io intervistai una famiglia di esoli siriani sul lago di Seo, e tra l'altro, parlando con la madre, lei mi disse che i suoi figli, la sorella, la figlia più grande, mi disse che combattevano col Free Sirian Army. La madre, presa dalla foca, disse no perché i miei fratelli combattono per Daesh. Quindi questa era un po' la testimonianza che questa distinzione tra ribelli moderati e terroristi era un po' uso e consumo di noi occidentali, mentre per loro esisteva solo Daesh. Penso, scusa, ci sono interi trattati di gente che ha discusso di squisito, pubblicato pubblicazioni importanti, libri, su, sul nulla naturalmente. Ma basta che parli con loro, ma la cosa che a me sembra assurdo è che queste cose si sanno. Non è che tu devi scavare chissà, bastava parlare con loro. La figlia era molto intelligente, una ragazza di seconda generazione, portava il velo, seppure il padre fosse laico. La sorella per esempio non portava il velo, ma lei portava il velo. Ragazza intelligentissima, universitaria, parlava tre lingue, lei molto cauda, anche se io mi ero presentato come un fautore della rivoluzione, proprio per capire più informazioni possibili. Poi la madre a un certo punto infervorata dice no perché i miei fratelli combattono per Daesh e la figlia da sotto al tavolo gli ha tirato un calcio sullo stinco alla madre. Allora vedi la madre che si è ricomposta e ha fatto finta di niente, però a me questa cosa mi è entrata proprio come una stilettata, ci ha detto vedi allora, è quello che noi pensavamo da tanto tempo, che questa distinzione fosse fatta solo a uso e consumo del pubblico occidentale, anche perché poi alla fine se uno va a vedere i numeri, cioè di quelle persone che parteciparono alle rivolte spontanee, tra virgolette, proprio iniziali, le cosiddette primaere arabe o rivoluzioni colorate, poi potremmo affrontare anche questo argomento diffusamente, eccetera. Sono una piccola minoranza, il resto sono tutti giadissi che sono arrivati da tutte le parti del mondo. Io a Damasco mi capisco di intervistare Martin Tamraz, che era un cristiano. Questa è una storia curiosissima, perché un mio collega mi aveva dato da fare sapere che era a Damasco e mi affida questa intervista. C'era questa donna che aveva il marito che era stato rapito per tre anni dall'Isis ed era stato per tre anni a Racca. Io dovevo intervistare questa donna e sapere come avesse affrontato, diciamo, tutto il periodo della cattura del marito, come avesse... e insomma io intervisto questa signora, si presenta una signora giovanile, molto carina, e c'era un signore, sembrava più anziano, che stava da parte. Insomma faccio tutta l'intervista, li saluto, a un certo punto faccio, dico, ma il signore... lui è mio marito, facciamo scusi. Cioè io ho parlato un'ora con lei, avevo seduto lì un uomo che è stato per tre anni a Racca, e parliamo del 2016, cioè quando Racca doveva essere ancora liberata. Allora ho detto, fermi tutti, ho fatto sedere il marito e ho cominciato a intervistarlo. E lui mi ha raccontato delle cose allucinanti. Lui mi ha raccontato... innanzitutto mi fece vedere il video di propaganda dell'Isis che avevano mandato alla famiglia, cioè lui viene fatto inginocchiare con il tutone rosso, arancione. Prima vengono fatte ingiochiare tre persone musulmane, si presentano, dice siamo Tizio, Caio e Sempronio, i tre uomini neri prendono, sparano in testa e questi muoiono. Poi si siede lui, un uomo dietro ciascuno di questi morti per terra, con la pozza di sangue per terra, e ciascuno di loro si presenta. Gli puntano la pistola in testa. Tu hai visto il filmato? Certo, ce l'ho anche. L'avevo messo su YouTube e poi YouTube me l'ha rimosso. E praticamente in quel momento staccano e quel filmato fu mandato alla famiglia. In arabo veniva detto che se non fosse stato pagato il riscatto loro avrebbero fatto la fine dei tre uomini davanti. I tre erano musulmani, quindi attenzione per chi parla di guerra di religione in Siria non è assolutamente vero niente, perché i musulmani sono stati forse quelli più trucidati che in Siria. I musulmani erano stati trucidati perché non valeva la pena ricavarne un riscatto. I cristiani sono una comunità più ricca e quindi quelle persone, siccome furono rapite mi sembra in quel visaggio 90 persone, fu rapito Martin con i tre figli praticamente, e loro avevano un valore per i terroristi e quindi per questo erano stati salvati e mandato il video. Quindi lui ha visto uccidere i tre? Sì, sì, era lì presente. Erano quei famosi video che noi abbiamo visto tagliati, censurati, eccetera. Io l'ho visto intero, ho visto proprio i tre uomini sedersi, presentarsi, i tre davanti sparargli in testa, cadere a faccia avanti, chiazza di sangue. Si sono seduti i secondi tre, si sono presentati. Lui mi disse che in quel momento io ero convinto di morire perché lui non sapeva che quello era un filmato per chiedere un riscatto. Dice io in quel momento ho pensato che sarei morto. Quindi immaginiamoci Cristiano, perché poi non ci siamo scordati che in Siria convivevano diverse religioni, Cristiani cattolici, Cristiani ortodossi, Cristiani armeni, Cristiani copti, qualche ebreo anche, musulmani, laici. Cioè la Siria è sempre stato un paese che è stato esempio per il mondo, per la coabitazione di diverse culture. Io quando ero lì chiedevo ma tu sei un musulmano? Lì non si parlava di religione, c'era quasi un pudore, è una questione nostra, noi pensavamo che fosse strano, per loro non era strano. Insomma Martin continuando nel suo racconto a un certo punto mi raccontò che cadendo si era rotto un braccio, no? E lui disse no, come hai fatto? Dice no, lì c'erano dei medici, mi hanno curato, adesso non mi ricordo, ce l'ho nella registrazione se disse medici tedeschi o medici francesi, forse francesi, io disse ma francesi magrebini, no no, francesi bianchi, dice c'erano molti bianchi che giravano a racca, tedeschi, francesi, io sono rimasto così. Cioè parliamo del 2016, poi furono scoperti che c'erano effettivamente uomini dell'intelligenza straniera che giravano, eccetera eccetera, ma io quando questa persona, cioè poi io penso che chi guardi questi video penserà quello è pazzo, no? Cioè si sta raccontando, ma sono cose che poi dopo sono state dimostrate, cioè io per casualmente c'ero inciampato ante litteram, cioè prima che questa cosa diventasse di dominio pubblico, ma poi queste cose sono state abbastanza, diciamo, chiarite successivamente. Cioè sulla Siria, adesso per fare un esempio, non so se poi arriveremo a parlare del resto, cioè io per esempio quando ci fu l'attacco chimico famoso, no? L'ultimo, io per esempio ero in Italia, ero tornato da non molto, no? Mi sveglio la mattina, accendo il cellulare e mi ritrovo 200 notifiche, no? Leggo al volo e attacco chimico, sapevo che dopo due o tre giorni sarebbero stati i colloqui di pace di Ginevra, dico, ma questi sono matti? Dice, ma che hanno fatto? Cioè hanno gasato la gente il giorno prima dei colloqui di pace? Allora alzo il telefono e chiamo la mia fixer che mi aiutava, la fixer per chi non lo sa è quella persona di appoggio che ti aiuta sul campo quando tu lavori, no? Lei è una giornalista, lavora per il governo, in sostanza è una spia, cioè era una che mi avevano appiccicato per capire, perché giustamente lo fanno. E insomma gli faccio, Sanà, ma mi spieghi un attimo? Cioè qui avete fatto un casino, cioè avete gasato, ma questi domani vi bombardano, ma che vi è saltato in mente? Lei mi disse, guarda Giorgio, io ti dico una cosa, non ti dico né no né sì, io non so quello che è successo. Cioè noi, già da noi si parlava di attacco con armi chimiche, di popolo gasato, quando la gente a Damasco, che lavora per il governo, non era neanche in grado di smentirtelo. Cioè poi Robert Fisk è andato, ha fatto un'indagine, si è scoperto che era stata una messa in scena, messa in scena dei ribelli, eccetera, ma da noi già c'era stato indagini, processo e condanna. Bene, così entriamo nel merito. Finisco solo una cosa, perché poi dopo alla fine c'è fu la sceneggiata di Saviano con la mano in faccia, c'è fu un tantam micidiale, c'è fu l'attacco, il bombardamento, eccetera, eccetera. Io il pomeriggio avevo un'intervista, dovevo andare alla sede di Radio 24 a Milano, non cito il giornalista che mi aveva invitato, ma che è un giornalista importante di Radio 24, a un certo punto gli faccio, dico, senti, ma mi spieghi una cosa, ma pure voi avete rilanciato sta notizia, ho visto, ma come è possibile? Cioè non è possibile verificarla sta notizia, come se... e lui dice, lui è un giornalista della vecchia scuola, mi disse, credimi, io non riconosco più i miei colleghi e qui entriamo nel merito. Va bene, entriamo nel merito, allora adesso abbiamo capito chi è Giorgio, che cosa ha fatto, diciamo così, non c'è bisogno che ce lo sottolineiamo, questa è una rarità, diciamo dal punto di vista, perché oramai sui luoghi dove succedono le cose i giornalisti non ci vanno più, perché i giornali più importanti non hanno più gli inviati speciali, semplicemente, e quindi si fa riferimento, non si sa chi. No, io volevo solo fare una riflessione veloce su quello che hai detto, il problema per me più sbalorditivo è questo, che tutti questi giornalisti sembra che non sappiano qual è la potenza di fuoco mediatica di coloro che organizzano tutte queste cose, perché noi siamo in una situazione in cui c'è un mondo che è il mondo occidentale, che poi ha un caposaldo che è Hollywood, dove tutte le spese, Hollywood e la Silicon Valley e Google e Facebook, tutta questa roba qua, che è una gigantesca macchina di comunicazione e informazione e sono gli unici che hanno questa gigantesca macchina e sono gli unici che hanno il controllo su questa gigantesca macchina, quindi almeno la prudenza di sapere che ha a che fare con gente che ha poteri pressoché illimitati e che può far arrivare il suo messaggio su masse di popolazione pressoché illimitate, non rendersi conto di questo e far finta che noi siamo in uno stato di equipollenza, quando poi non arriviamo alla comicità più assoluta che è quella di attribuire alla Russia e al Russiagate la possibilità di influire sulle elezioni americane, niente po' di meno che tutta questa storia qua fa parte della dissonanza cognitiva che sta invadendo tutto l'Occidente. Ma quello che a me fa specie, e qui possiamo in parte anche entrare nello specifico della lettera che ho scritto a Marco Travaglio, è che l'informazione è diventata gossip, cioè quello che viene chiamato infotainment, cioè ora voglio dire, quando si parla di cazzaro verde riferito a Salvini, termini caricaturali quasi, ora Salvini può essere l'individuo più spreggevole del mondo, Putin l'autocrate detestabile, il macellaio Assad, poi gli altri sono sempre regimi, non so se ci abbiamo fatto caso, oppure che si parli dei tot soldi che avrebbe intascato Tiziano Renzi, ma nell'ottica dell'informazione globale è come se io mi interessassi della riunione di condominio di Licata, cioè sapere o non sapere o documentare la vicenda di Tiziano Renzi o se il padre di Di Maio ha assunto un impiegato in nero oppure no, è come se io mandassi una truppa giornalistica a indagare sulla caldaglia del condominio di Licata, ma cosa mi entra in tasca a me cittadino di queste cose, stiamo parlando del niente, è un esempio calzante, la caldaglia di Licata è fondamentale, ma io mi annoio anche, ma a me cosa mi frega dei soldi di Tiziano Renzi che ha parlato, non so se voi avete capito, le intercettazioni paginate paginate, leggi il fatto, sono quattro pagine di illazioni se quello ha parlato con Tizio, Caio e Sempronio, poi dall'altra parte siamo su loro da guerra nucleare, cioè ma ci rendiamo vuoto, e la gente, tu incontri uno per strada, piacere Giorgio, piacere Mario, io sono stato in Russia, si, ah dal dittatore Putin, faccio scusa, dico tu che ne sai, no ma quello è un dittatore, faccio scusa, perché? Dice no ma lo sanno tutti che è un dittatore, cioè loro, c'è un riflesso pavloviano, no? Sì, è come quello che era l'assassinio della Politkovskaya, che tutti dicono Politkovskaya, l'assassinio, beh, si sa che ha ucciso la Politkovskaya. Ma la trotta, lui ha fatto un articolo, si chiama, un editoriale, si chiama Figli di Putin, io vi invito a andarvela a ricercare sul web, è un florileggio di luoghi comuni, cioè Putin e Medieved che hanno le proprietà all'estero, cioè ma se fosse in Italia beccherebbe una denuncia per diffamazione, lui si avvale di questa cosa perché lui sa che quello sta dall'altra parte del mondo e che non lo può denunciare, ma porta le prove, ma poi voglio capire, ma a me che cosa mi frega se Putin ha le case all'estero, ma allora Trump nella sua vita che era fatto tutto a posto, allora che devo fare? Devo commerciare solo con gli islandesi io? Non tenendo conto che magari ammazzano le balene perché sennò qualcuno dice, ah che fai commerci con gli islandesi? No, ma lo sai che loro ammazzano le balene? Cioè allora i rapporti economici sono un'altra cosa, cioè qui non si tiene minimamente conto dell'interesse strategico delle nazioni, cioè come se da una parte abbiamo i gigli di campo e dall'altra parte c'è la Russia al confine con la Cina, c'è la densità di dieci abitanti per chilometro quadrato, cioè ma mi spiegate voi che mire espansionistiche possono avere verso l'Europa? Hanno risorse per campare cent'anni senza acquistare... Entriamo nel merito del gossip e non ne riusciamo più, non ne riusciamo più, io adesso entriamo nel merito, adesso tutto quello che hai raccontato è molto interessante e noi naturalmente lo daremo con grande piacere, tuttavia tu hai cominciato, adesso mettiamola così, qualcuno guardando da lontano, tu hai cominciato la polemica con Travaglio che è un giornalista che molti di noi, tu compreso mi pare da come gli hai scritto, consideriamo uno che ha difeso molti valori della nostra democrazia, che ha difeso la verità in molte case cruciali della storia degli ultimi 25 anni, tra l'altro colgo l'occasione per dire che io lo considero un record man assoluto perché da quando ha inventato il fatto quotidiano ho notato una cosa, che lui non ha mai mancato un solo giorno di scrivere un'editoriale, non conosco nessun esempio di una tale assoluta, sarei per dire una brutta parola, perfino maniacale, ma comunque certamente straordinaria. Qui c'è un altro maniaco che non ha quasi perso nessun editoriale di Travaglio in nove anni. Ecco ma neanche io, salvo quando sono all'estero, quindi cominciamo col dire che si tratta di un personaggio fuori da comune, forse per questo, perché come tu hai scritto e io anche nella mia modesta veste di osservatore ho notato, a parte le critiche che tu hai fatto sul gossip giudiziario esteso su dimensioni macroscopiche, ma certo una cosa che colpisce è che la linea interna del giornale, la linea sulla politica italiana è una cosa totalmente diversa dalla sua linea esterna, dove da una parte c'è un forte apparato critico, comunque giudicabile, ma comunque un apparato critico, documentato, formidabile, una squadra peraltro di investigatori che non è da montare via, per esempio, gente di valore e sul fronte internazionale dove come tu dici giustamente siamo sul filo della guerra mondiale, comunque siamo in una crisi senza precedenti, sparisce il mondo, anche nel giornale più interessante che c'è in Italia il mondo non c'è e questa è la mia spiegazione, quella che ho sempre avuto, ho un blog sul fatto, mi sono sempre chiesto come è possibile che il mio blog coincida con un giornale che invece dice esattamente il contrario, va bene è un fatto positivo, ma certo è un problema e tu hai scelto, questa è la domanda che ti faccio, perché hai scelto di partire da lì quando Travaglio è di questo sistema comunicativo, è l'unghia del dito miglior del piede sinistro, il resto è un pazzesco miscuglio di menzogne e di stupidità, diciamo così, perché cominciamo da Travaglio? Noi cominciamo da Travaglio perché io come ho scritto nella mia lettera, io ricordo ancora il giorno in cui Padellaro lanciò dalla Gruber l'iniziativa editoriale, lui disse che stavano per lanciare Il Fatto in onore di Enzo Biaggi che aveva una trasmissione appunto che si chiamava Il Fatto, lui disse che sarebbe stato un vascello corsaro e questo poi lo ho ripreso dopo perché i vascelli corsari in genere sono pagati dalle nazioni straniere per fare atti di prenderia, invece sarebbe stato meglio dire noi siamo un vascello pirata e non corsaro, però non vorrei che fosse un lapsus freudiano questo, il giorno dopo io alle 7 del mattino ero davanti all'edicola appena aperta per comprare il primo numero con scritto Letta Indagato, ancora mi ricordo il titolo e mi ricordo anche che Padellaro nella presentazione da Gruber disse io vi invito a lasciare in giro il nostro giornale per farlo trovare alla gente, e io così feci, per anni io compravo il giornale e non lo buttavo, lo lasciavo in giro per fare pubblicità a loro. Quando Travaglio faceva le trasmissioni con Santoro e chiedeva i soldi al pubblico, io gli mandai i soldi. Quando vendeva i dvd di Passaparola, io comprai i dvd di Passaparola, ma non perché mi servissero, i Passaparola li ho visti tutti su Youtube, per sostenere, perché io ritenevo che il giornalismo libero andasse sostenuto, loro non prendevano i soldi pubblici, avevano bisogno dei soldi dei lettori, ingenuo. Quindi alla fine sono andato a vedere i suoi spettacoli a teatro, ho comprato i dvd dei suoi spettacoli a teatro, cioè per me Travaglio è un mito, ma un mito per le capacità intellettuali, per la dialettica, per il meccanismo a tenaglia logico con il quale costruisce i suoi editoriali. Io li ho letti quasi tutti perché è un piacere leggerli, perché andrebbero studiati nelle scuole di giornalismo per come sono fatti. Però poi io con il tempo mi sono reso conto che c'era qualcosa che non tornava. Cioè quando lui andava in giro e diceva nelle sue serate, nelle sue cose, diceva no perché i cittadini hanno bisogno di essere informati quando vanno a votare. Dice il nostro compito è informare i cittadini quando vanno a votare. Ma io cittadino devo essere anche informato su cosa succede fuori dal mio paese, perché poi i grossi giochi non si fanno nel proprio paese, si fanno fuori. E quindi dicevo, cioè se tu vuoi formare un cittadino completo non è che gli vuoi dare solo le beche del condominio, gli devi spiegare pure che succede fuori dal mondo. Il problema è che Travaglio è un fuoriclasse e non è l'unico, in Italia ce ne stanno tanti di fuoriclasse. Il problema è che oggi i fuoriclasse giocano tutti per le grandi squadre. Non c'è nessun fuoriclasse, non c'è un gigiriva, non esiste più. Non esiste più l'intellettuale che si schea. Tu forse sei un gigiriva del giornalismo. Ma grazie. No, è così, perché ci sono dei fuoriclasse del giornalismo. Penso anche a Fulvio Grimaldi, che io seguo da anni, anche lui, tutta gente completamente marginalizzata, completamente spinta agli angoli. E' come adesso quando vai a vedere le squadre di calcio, se tu vuoi vedere la Juventus, vedi Real Madrid, vedi Barcellona, sono questo concentrato di stelle, ma giocano tutti, le altre squadre si devono in qualche modo arrangiare. E se hanno un campione dopo cinque minuti glielo portano via. E quindi poi alla fine... Io ho fatto una nota sul campionato mondiale di calcio in Russia. Sì, mondiale, sì era. E praticamente guardavi tutte le squadre, comprendo le squadre africane, erano tutte composte di giocatori che giocavano in Europa. Cioè non esistono più. Non c'è più la bandiera. Non c'è più la bandiera. Esattamente, noi a Roma andato via Totti, fine, chiuso, c'è De Rossi forse. E quindi, cioè, e comunque tu quando scrivi una lettera di critica, che qualcuno ha anche detto che i Toni erano feroci, io sono partito con molto obiettivo e molto piatto. Però quando poi ho visto che non si riceveva risposta a questa cosa, sono salito da quei Toni e l'ho punto, diciamo, forse sul vivo, tant'è che lui mi ha risposto con questa lettera molto secca, mi dava del lei, quindi molto distante, no? E lui diceva che loro sono liberi, io me ne devo fare una ragione, loro sono liberi di scrivere quello che vogliono. Attenzione! Cioè tu non sei libero di scrivere quello che vuoi. Allora, perché se tu scrivi quello che vuoi, non lo so, scrivi sopra, questa è una testata che è contraria a tutti i paesi non allineati alla linea atlantica. Faccio un esempio, forse con un esempio mi spiego meglio, no? Diciamo che io ho una signora che fa la portiera nel mio stabile, no? E mettendo caso che Travaglio vuole raccontare della mia portiera. Diciamo che a Travaglio la mia portiera sta antipatica, no? Ok. Se lui scrive che la mia portiera non lava bene il pavimento, io che cosa ne devo dedurre? Che lui l'ha scritto perché lei effettivamente non lava bene il pavimento o perché a lui sta antipatica? Perché a me può venire il dubbio. Magari la portiera ha anche i precedenti penali, per ipotesi, no? Però a me, del mio palazzo, a me interessa come si comporta la portiera nel palazzo. Non mi interessa se a precedenti penali o a Travaglio sta simpatico o antipatica. A me interessa di sapere il problema, se noi lo paragoniamo alla politica estera. Travaglio non è che viene di persona o manda qualcuno a controllare l'operato della portiera. No, lui chiede ai condomini ai quali la portiera sta comunque sulle scatole. Tu accusi, accusi sostanzialmente, ho letto la tua lettera, anche molto duramente, Travaglio di non essere obiettivo sulla politica estera. È questo il punto. Il punto è proprio questo. Cioè, ho detto, loro come gran parte dei giornali oggigiorno non hanno inviati sul posto. Quindi quello che si fa è che nella redazione si guardano quello che hanno scritto gli altri, sostanzialmente, e in qualche modo si cerca di fare un collage tra queste cose e buttarle in una forma nuova articoli che hanno scritto gli altri. Se io faccio per esempio l'esempio della Siria, ma se le informazioni che arrivano sulla Siria sono solo di fonte contro il governo, quindi il famigerato osservatorio siriano per i diritti umani, oppure Al Jazeera e Arabia, che fanno capo una all'Arabia Sadia e l'altra al Kavatar, che sono parti in causa nel conflitto, o peggio ancora giornali d'oltreoceano o giornali israeliani che non vedono l'ora che Assad finisca appeso a testa in giù, no? Se le uniche fonti sono queste e io vado a rimescolare gli articoli come faccio lì e vedo solo che cosa hanno scritto questi, no? Come posso restituire al pubblico un'informazione obiettiva? C'è stato il caso famoso di Ciavoni, il giornalista di Repubblica, il povero Ciavoni, la vittima sacrificale, che su Repubblica una volta fece un articolo, e noi da casa sui social siamo tutti saltati, in cui si diceva che l'osservatorio siriano per i diritti umani non era mai stata una fonte attendibile. Io ho detto, perché? Cioè, allora buttiamo via, cioè, lì dovrebbero andare nelle emeroteche e bruciare otto anni di articoli, no? Perché secondo l'osservatorio siriano, in base a quanto dice l'osservatorio, secondo quanto riportato all'osservatorio siriano, poi si sveglia Ciavoni e fa questo articolo. Come finisce Ciavoni? Come finisce Ciavoni? Allora, Ciavoni finisce che quando l'articolo è diventato virale, cioè un giornale dovrebbe distribuire notizie, no? Quindi quando un articolo diventa virale dovresti essere contenti. Loro che fanno? Sparisce l'articolo dal web, cancellano l'url, non esiste più l'articolo. Ciavoni diventa irreperibile. Compare un altro articolo che sostanzialmente si intitolava il difficile mestiere di informare, in cui in tutto l'articolo c'era un pistolotto omicidiale su quanto oggi sia impossibile mandare inviati, di come oggi sia possibile fare informazione sulla politica estera, eccetera, eccetera, ma alla fine viene detto che comunque l'osservatorio siriano per i ditti umani non era attendibile. Ciavoni l'osservatorio siriano per i ditti umani è un ufficio a Coventry, in uno scantinato, io conosco un padre che ci ha andato proprio di persona a vederlo, io ci volevo fare un documentario che partiva proprio dalla ricerca, alla Michael Moore, la ricerca dell'osservatorio siriano per i ditti umani, è uno scantinato, lui di pomeriggio mi sembra che lavori al negozio d'abbigliamento della moglie, è un esule siriano che manca dal paese da 10-11 anni e la maggior parte delle informazioni che sono venute dalla Siria e che sono state riportate dai maggiori organi di informazioni italiani e stranieri, parliamo anche di Guardian, New York Times, eccetera, provengono da uno scantinato dove lavora una persona che manca da 10 anni dalla Siria. E da chi riceve l'informazione? Dai cosiddetti ribelli moderati, dai White Helmets, dai ribelli moderati, perché lì non c'è nessuno? Perché poi un'altra cosa, se questi ribelli sono così moderati, ma come mai non si riesce a mandarci un inviato? Cioè ce lo siamo mai chiesti? Sono moderati, no? Sono la versione bio, abbiamo detto, almeno tra la versione bio, ma è possibile che ci potrebbe essere un reporter, avranno forse qualcosa da nascondere questi ribelli moderati? Beh, qualcuno ci è arrivato, cioè Quirico, Domenico Quirico, quello che è stato preso, catturato, liberato. Padre Dall'Olio, qualcuno si può anche chiedere che fine ha fatto, oggi ci stanno dei gruppi che chiedono Padre Dall'Olio dove è finito, lo andassero a chiedere ai loro amici ribelli moderati che fine ha fatto Padre Dall'Olio e lui ha fatto per anni propaganda a favore dei ribelli moderati e loro l'hanno ricompensato facendolo sparire da qualche parte. Bene, torniamo all'istante a Travaglio, ti faccio una ipotesi, è possibile dire così che Travaglio di politica estera non se ne è mai occupato, salvo qualche rara eccezione che qualcuno gli ha strappato qualche dichiarazione, per esempio filo israeliana di regola, antipalestinese, filo atlantica, ma normalmente lui non si occupa di queste cose, non mi pare di aver mai visto un suo editoriale sulla politica estera, allora facciamo questa ipotesi, Travaglio non sa nulla di politica estera, la affida a un gruppo di persone e tira giù la sala cinesca, fate Bobis, questa è un'interpretazione che in qualche misura lo salva, ma che comunque certo, siccome il direttore del giornale è lui, la responsabilità di tutto quello che va sul fatto, è sua. Ma secondo me, io torno a dire, secondo me oggi queste figure, più che essere giornalisti e qui ritorno al discorso che facevo prima del gossip e della politica, sono influencer, io l'ho definito un po' la Ferragni del giornalismo, come Saviano del resto, no? Cioè sono personaggi che acquisiscono una credibilità per alcune cose, quindi si brandizzano in un certo modo, ma poi questa credibilità diventa un cappello per altre cose, no? Quindi come un timbro, quindi qualsiasi cosa esce da lì è timbrata, autocertificata, tant'è che molta gente mi ha criticato, dice ma come, attacchi l'unico giornalista decente che c'è in Italia, ma attacca quegli altri? Allora, fermo restando che Travaglio non mi sembra che abbia mai usato parole lusinghiere nei confronti dei colleghi, no? I colleghi del giornale, perché allora a questo punto, cioè, Sallussi, no? Oppure lui la pensa come gli pare, no? Come Travaglio. Perché Sallussi non può pensare bene di Berlusconi, per esempio, no? Se ognuno può scrivere quello che gli pare, allora perché tu l'hai criticato? Tu fai il tuo lavoro, Sallussi fa il tuo lavoro. Però quando vieni colto, come si dice a Roma, tu col sorcio in bocca, no? Eh, tu una risposta la devi dare. Cioè, tu hai detto i fatti. Cioè, lui ha fatto uno spettacolo meraviglioso, no? In cui ha raccolto tutte le bufale sulla Raggi. Il mio sogno è fare lo stessa cosa con le bufale del fatto quotidiano in politica extra. Cioè, prendere i giornali, come faceva lui con l'aria scansonata, e tirarli. Ha scritto questo, invece poi la realtà era questa, ha scritto questo. Io prenderei gli articoli che hanno scritto loro negli anni in politica estera, e poi li confronterei con i fatti, con quello che è successo. E alla fine il risultato sarebbe lo stesso. Cioè, quindi, alla fine, tu in che modo ti distingui dagli altri? Cioè, torno a dire, sul fatto poi che la politica estera è più importante della politica interna, perché i grandi giochi si decidono lì. Cioè, se un paese si deve risollevare, si risolleverà solo... Cioè, lui che parla della corruzione, no? Allora, quando c'erano i vecchi filibustieri della Prima Repubblica, cioè l'Italia era un paese dove c'era evasione fiscale, dove c'era il debito pubblico, criminalità organizzata, corruzione, ma eravamo la quarta economia del mondo. Come mai? Perché quei filibustieri che ci governavano riuscivano in qualche modo a collocarci in politica estera. E c'era comunque un mercato interno che era florido, perché il paese comunque aveva i risparmi, aveva i soldi. Oggi i risparmi interni si sono rinsecchiti. La politica estera non si fa più. Cioè, ma in questo paese quale prospettive ha? Dove va? Però io aggiungerei, qui il discorso si allarga molto, la politica estera non si fa più in nessun giornale italiano. Io sono stato dieci anni alla stampa, prima dieci anni all'unità, e dieci anni alla stampa, quando io arrivai alla stampa, quel giornale, cheppur era un giornale moderato di centrodestra, come orientamento di massima, era un giornale che aveva una possente politica estera. Cioè aveva pagine intere. Nel 1989 la stampa era ancora un giornale che aveva una grande politica estera. Io facevo l'inviato, giravo il mondo, non parlavo solo di Russia, ero corrispondente da Moscova, ero anche inviato speciale, giravo per il mondo, sono stati G8, un sacco di posti. Sono stati in Afghanistan, sono stati in molti posti, anche dove le interpretazioni degli eventi erano contestabili e contestate. Ed era un giornale di centrodestra dove io potevo scrivere le mie cose. Ma se guardi adesso i giornali italiani, è sparita la politica estera. Letteralmente non c'è più un inviato che racconta, non dico la guerra, perché è difficilissimo raccontare la guerra comunque, ma dove c'è un inviato che ti raccolta la vita della gente in un altro paese. Questo è un po' il problema generale, per cui dal fatto quotidiano noi dovremmo andare, dovremmo riuscire, parlo di noi, io, te, tutti quelli che stanno fuori da questo giro, che non sono presi per il collo, perché poi parliamoci chiaro, una delle ragioni di fondo è che se tu sei preso per il collo da un ricatto potenziale, tu non puoi dire la verità, nessuno di questi qua può dire la verità. Avevuto Hulk fotte. Appunto. Quindi il discorso diventa molto, molto grande, molto vasto e allora torno a quello che diceva, cito di nuovo Travaglio, quello che diceva ma l'elettore deve essere informato, non al momento del voto, in realtà l'elettore deve essere informato prima del voto, molto prima del voto, per mesi e mesi deve ricevere il nutrimento. Guarda caso, quell'intervento lì che poi andò anche in televisione, cioè lui intervenne anche in televisione con Di Maio, quando si parlava delle sanzioni alla Russia, cioè quando un giornalista interviene così pesantemente per dire che la politica non deve rimuovere le sanzioni alla Russia perché quello è un dittatore autocrato e detestabile. Ma così ha detto, questo mi ha sfuggito. C'è già anche lì il video che viene da Derisate, dice uno che reprime i gay, eccetera, eccetera. E lì io sto dicendo che la gravità, cioè noi sottovalutiamo un fatto, le truppe cammellate mediatiche non sono schierate a destra o a sinistra nel nostro paese, sono schierate sul confine orientale. I fili dell'alta tensione sono quelli del confine orientale. Io una volta ho fatto un esempio, immaginiamo che l'Europa sia un coral, in cui ci sono questi animali macilenti, che sono l'Europa, la Francia, l'Italia, la Spagna, la Grecia, questi animali che hanno detto che dovevano dimagrire per essere più performanti, però poi hanno superato il limite e stanno morendo perché stanno dimagrendo troppo. E noi vediamo questi cowboy, questi Yankee, che questi cavalli li fanno girare una volta a destra e una volta a sinistra. Quindi una volta il paese va a destra, però giri sempre l'intondo in questo coral, e poi questi cavalli ogni tanto si tirano una zoccolata per un germoglio che spunta lì nel terreno. Vedi la Libia, Italia-Francia, se pigliano a zoccolate per un osso secco che sta in Libia. Il problema è che fuori dal coral ci stanno le praterie sconfinate nei mercati emergenti dell'est. Dove tu devi tenere... Cioè per tenere... Per gli Stati Uniti i paesi europei sono competitor. Finché restano nel coral se pigliano a zoccolate e non vanno nelle praterie vergini, allora non va bene, va benissimo, hanno eliminato i competitor, non rinforzano quegli altri. È la strategia perfetta. Qui ci vuole un condottiero che salga su uno di questi cavalli, tagli il laccio e questi cavalli saltino nelle praterie. C'è la Belt and Road initiative cinese, sono miliardi di investimenti che non aspettano altro di qualcuno che gli dica... Cioè l'Iran che è sotto sanzioni, adesso si stanno dotando dello Special Purpose Vehicle per commerciare con l'Iran, che è una forma di baratto medievale. quando l'Iran aspetta solo che qualcuno gli dica che aprire i rubinetti del petrolio e inondare l'Europa di petrolio, non parliamo del gas russo, cioè ci vogliono vendere il gas di scisto americano che deve venire con le navi cisterne, servono i rigassificatori, eccetera. cioè è una guerra per... Cioè loro ottengono due scopi simultaneamente, cioè loro confinano con le sanzioni economiche che sono una forma di guerra le sanzioni, perché le sanzioni sono come l'assedio medievale. Cioè tu una cittadella la puoi assaltare oppure la puoi cingere d'assedio e farla morire di fame, perché poi è chiaro che nascono le tensioni interne, è più facile fare rivoluzioni colorate in un paese sotto sanzioni perché la gente è scontenta, è più facile infiltrare. Cioè questa è una forma di guerra asimmetrica. Cioè quando Lutvark da Floris disse l'impero americano si deve basare sull'impero romano d'Oriente e infatti negli Stati Uniti a differenza di noi si studia l'impero romano d'Oriente, loro campano con i bizantinismi. Cioè loro sanno perfettamente che se il continente eurasiatico si salda e si mette al riparo dalle talassocrazie che rimangono chiuse fuori da questo mercato, è game, set, match. Finita la partita a casa. E io quello che non riesco a capire è come... Cioè è una cosa talmente... Cioè se l'Europa si dotasse, l'Eurasia si dotasse di una moneta di riferimento, di agenzie di rating, si fa un grande piano keynesiano che già esiste, che è la Belt and Road Initiative di investimenti a cui partecipano tutti, ci sono le energie, ci sono le materie prime, si stabilizza il Medio Oriente, si infrastruttura l'Africa. Ma gli Stati Uniti in questo piano dove stanno? Sono una zattera che galleggia nell'oceano. Stai parlando di Marte, o stai parlando della Terra? No, stiamo parlando di una cosa che è talmente ovvia che è sotto gli occhi... Io quello che non riesco a capire è che divento matto. Cioè, ma perché io mi sono avvelenato con un travaglio? Perché questa gente... Io sono un patriota. A me mi dicono certe volte che dice, no, tu sei filo Assad, sei filo Putin. io sono filo italiano. Cioè, io sono un patriota italiano. Questa parola va sdoganata. Cioè, se io voglio il bene del mio paese, io voglio che il mio paese sia libero. Si parla di sovranismo, di sovranità. Ma quale è la sovranità che io non posso commerciare con l'Iran perché gli americani hanno stabilito che io non ci... questo bisogna spiegarlo ai sovranisti monetari i quali ritengono che tutto il problema sia quello di uscire dall'euro e dopodiché tutto va bene. Ma è una follia! È una follia! È una follia! In Italia poi se parla di destra, fascisti, antifascisti, cioè, questa è una triremi in cui bisogna remare da destra e da sinistra ma nella stessa direzione. No che quelli a destra remano da una parte e quelli remano dall'altra. Eh, vabbè, questo è un grande discorso. La prima cosa che tu devi fare è capire chi è il tuo nemico. Bene, Siamo completamente d'accordo. Il problema del nemico ecco, questo semmai è un grande tema perché il problema fondamentale che ha tutto questo gruppo di persone in cui noi siamo pure in qualche misura coinvolti non ha ancora imparato una cosa fondamentale quello di fare l'analisi dei rapporti di forza di sapere chi è il nemico quanto è forte quanto è forte lui quanto sei forte tu quali sono le sue armi quali sono le tue armi tutti esulano da questo problema fondamentale una cosa fondamentale è analisi ma finché si a me mi dicono che io scrivo i post su facebook che sono troppo lunghi vale che ne sono le leggi ahimè io vado ai pazzi io se vedo i post corti li salto perché per me non ci sono contenuti come fai a inserire dei contenuti in un tweet oppure in tre righe come fai a fare un'analisi in una situazione del genere il problema è che tu devi capire quali sono i rapporti di forza quali sono gli interessi strategici quali sono gli attori in gioco cioè la guerra in Siria non è un attore o due attori ce ne sono sei sette di attori lì dentro e quindi questo porta porta appunto alla questione cioè la politica estera deve sparire se no la gente impara a fare l'analisi se gli dai gli strumenti se gli fai vedere il quadro come uno guarda un quadro se guarda in un angolo solo non può capire che quadro è questo vale per qualunque quadro se tu gli offri al pubblico al grande pubblico a milioni di persone solo il quadratino che interessa a te non sarà mai in grado di capire cosa succede al mondo quindi la spiegazione del problema della sparizione della politica estera della nostra comunicazione è questa il pubblico non deve sapere qual è il quadro se il pubblico studia la politica estera dopo un minuto capisce chi è il suo nemico si capisce abbastanza in fretta si capirebbe abbastanza in fretta lo capisci dopo un minuto lo capisci dove tu cioè dove sono concentrate le loro forze e dove tu dovresti concentrare le tue bene allora questa conversazione come minimo non ha risolto il problema di travaglio nel senso che non so come andrà a finire poi mi dirai tu che cosa pensi noi venerdì proviamo a andargli a consegnare questa lettera per vedere se finalmente la pubblicherà o sul giornale cartaceo o sull'online e se risponderà non solo a me personalmente ma se deciderà di rispondere anche alle migliaia di lettere che gli sono arrivate dalle altre persone che hanno chiesto conto di quello che ho chiesto io cioè di questa sciatteria perché poi parliamo proprio il termine è forte ma è sciatteria voluta non voluta dovuta al pregiudizio io questo non lo so ce lo deve spiegare lui pensi che te lo spiegherà? io penso di no perché vorrebbe dire dover riconsiderare se stesso e io non credo che lui deciderà di riconsiderare se stesso io penso che oramai la sua consegna sia quella il problema è il problema dei lettori il problema è perché poi questa gente loro hanno due cose del loro patrimonio una è la credibilità e l'altra è i lettori se perdi uno dei due chiudi bottega quindi alla fine perché è il mercato noi parliamo di mercato il mercato deve essere io devo essere libero di commerciare con chi mi pare devo essere libero di prendere l'energia da chi mi pare io devo essere libero di prendere informazioni da chi mi pare se tu non mi dai le informazioni che io mi aspetto che tu mi dia io mi faccio la mia rassegna stampa la mattina su facebook mi metto mi piace alle mie cose seguo i miei amici che impostano cose interessanti e il giornale non lo compro più fine tu chiudi e io resto comunque informato ma c'è ancora una domanda che ti voglio fare perché Travaglio non è il fatto è un grande direttore del fatto fondatore eccetera eccetera ma c'è una squadra intorno a lui la domanda che tu rivolgi a lui dovrebbe essere rivolta anche alla squadra quale squadra abbiamo perché ci sono alcuni grandi nomi di questo giornale che in qualche misura hanno supplito all'assenza della politica esterna hanno fatto hanno fatto la loro per esempio Furio Colombo per dirne una per esempio lo stesso Padellaro quale nei suoi commenti è molto occidentale è totalmente occidentale e così via discorrendo ci sono dentro intelligenze eccetera eccetera la domanda è se Travaglio non abbia praticamente preso atto del fatto che la squadra che si è formata si è formata in un certo modo e non voglia aprire un conflitto interno con persone comunque che non lo seguirebbero se adottassi i criteri che tu hai detto cioè uno come Colombo non seguirebbe Travaglio in una linea adesso cominciamo a dire le cose come dire procurandoci le informazioni autonome e dicendo al pubblico come minimo che ci sono due varianti due non so quanti sarebbero nella squadra il fatto in grado di fare questo discorso ma io torno a dire il riferimento è sempre il pubblico quando tu perché il giochino prima o poi viene a galla cioè oggi il giochino sta emergendo cioè non è che lo potranno tenere nascosto per altri vent'anni perché quando la crisi continuerà a mordere a mordere a mordere a mordere le soluzioni non si troveranno perché continuiamo dentro a stare dentro quel recinto e le zolline dei piccoli germogli saranno quasi finiti la gente a un certo punto ti chiederà conto di come mai non si è trovata una soluzione alternativa loro possono continuare così a oltranza però secondo me continueranno a perdere lettori come cioè a me dispiace io per me un idolo era Lirio Abbate nell'Espresso cioè scoperchiato mafia capitale vive sotto scorta cioè ha fatto un lavoro maestoso quando io stavo al DIG per una premiazione è venuto lì c'era lui Gui Chiappaventi con i quali hanno fatto il documentario L'Uomo Nero io sono voluto essere in prima fila ho avuto il privilegio di stringergli la mano ma perché per me era importante cioè quelle mani avevano vergato delle pagine importanti della storia del giornalismo italiano però poi che fai il resto? cioè è una cosa che stanno dilapitando il patrimonio della loro credibilità e questo di conseguenza gli sta facendo perdere i lettori bene però il problema sfortunatamente è che noi stiamo andando verso una crisi come tu hai accennato molto più vasta dell'attuale molto più profonda che non si sa come andrà a finire anche perché la crisi dell'Europa è evidente la crisi dell'Italia è evidente la crisi del mondo è evidente come si possa pensare che l'Italia possa uscire dalla crisi risolvendo i suoi problemi interni faccio fatica perfino a immaginarlo ma negli anni 80 e 90 eravamo anche di peggiori però andavamo bene ma per quale motivo? ecco però quindi allora concludendo questa conversazione molto interessante molto utile io direi così come sai io da tempo dico questa questione e riguarda un po' tutti non c'è nessuno escluso da questa domanda noi tutti abbiamo a lungo taciuto sul fatto fondamentale che il potere sta nella comunicazione in questo momento o meglio il potere non è la comunicazione ma il potere non esisterebbe se non ci fosse questa comunicazione mettiamola così questa comunicazione è il pilastro su cui il potere regge tutti i suoi misfatti ti faccio un inciso quando ero in Siria e parlai col ministro dell'informazione siriano io gli dissi queste parole gli feci tradurre dalla mia interprete voi potrete pure vincere la guerra sul campo ma perderete la guerra dell'informazione 10 a 0 senza toccare palla che è un po' quello che riguarda anche la Russia perché la Russia se non ci fosse stato Putin che ha vinto due o tre battaglie fondamentale beh la Russia non è riuscita a vincere una cioè qualunque cosa succede diventa una un'ondata di accuse dei confronti della Russia qualunque cosa succede degli ultimi direi ecco qui un punto di riferimento dal 2014 in avanti perché l'Ucraina è stata per me tu lo sai che noi abbiamo fondato Pandora proprio all'inizio del 2014 quando è apparci evidente che lì stava cambiando tutto non è che cambiava l'Ucraina tu sei stato l'unico a parlare di Odessa diffusa ma si capiva che lì era troppo grossa per essere un incidente di percorso succedono nella storia ce ne sono stati danni ma quando ti accorgi che l'Occidente ha deciso di andare all'attacco e di colpire colpire la Russia proprio sul suo zermino di casa tra l'altro e noi abbiamo fatto Pandora perché io ho capito insieme a alcuni altri amici che lì bisognava stare molto attenti aprire gli occhi dieci volte e cominciare a fare l'analisi del quadro bene il problema è questo come unire le forze per aprire un dibattito politico sul sistema della comunicazione e dell'informazione per questo io ho deciso di fare l'intervista con te questa conversazione perché vorrei che tutti a prescindere da quello che pensano di me di te si rendessero conto che noi dobbiamo concentrare su quello perché se no facciamo una battaglia su quello per modificare il quadro generale intendo dire tutto il sistema della radiocomunicazione in generale deve essere cambiato le frequenze televisive come vengono distribuite quanto costano che ruolo ha lo Stato nell'orientare la più grande impresa che fornisce le idee a 60 milioni italiani quali che siano abbiamo in mano un possente strumento che è ormai l'unico esistente dal quale non si può prescindere io ci metto dentro anche internet tutta questa immensa macchina forma il cervello della gente la struttura del modo di ragionare non solo le informazioni allora se noi non affrontiamo questo problema il discorso di difendiamo la Costituzione che vuol dire? che vuol dire? noi abbiamo un articolo della Costituzione che è l'articolo 21 che è stato scritto quando tutto questo non c'era ancora e noi ci regoliamo come? c'è un'associazione che si chiama articolo 21 che tra l'altro è corresponsabile delle indignità che vengono commesse nell'ordine dei giornalisti perché silenzio ma l'articolo 21 va preso e va sottoposto a un dibattito pubblico collettivo ecco la mia parola d'ordine sarebbe questa cominciamo a dire che noi che difendiamo la Costituzione siamo perché l'articolo 21 sia sottoposto a un esame di massa collettivo da qualunque finestra da qualunque blog ovviamente da qualunque televisione ma non avverrà sulle televisioni da qualunque giornale decente bisogna aprire una discussione su che cosa è questo sistema della comunicazione perché lì si decide la sorte della democrazia e anche del popolo italiano colgo questa occasione per ringraziare Giorgio che ha tirato fuori una parola che negli ultimi tempi anche a me è diventata piacevole interessante anch'io sono un patriota anch'io sono un patriota il patriottismo a sinistra non c'è mai stato un patriottismo e invece io ritengo che sia giunto il momento di dire che se noi vogliamo salvare questo paese dobbiamo amare questo paese e dobbiamo difenderlo da coloro che impediscono a questo paese di essere democratico ricordo a tutti concludendo questa conversazione che c'è un articolo che è l'articolo 3 della Costituzione dove i padri costituenti che erano molto saggi scrissero una frase che per me è fondamentale compito dello Stato è rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di essere uguali ma quale ostacolo più grande c'è che non quello dell'informazione un cittadino che non sa non è né un cittadino sovrano né un cittadino libero né un cittadino è uno schiavo Giulietto Chiesa insieme a Giorgio per PandoraTV.it lì lì insieme a Giorgio lì 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 Grazie per la visione!